E' preoccupato il vice sindaco di Pescara e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli per i contagi che aumentano in particolare nelle scuole primarie della città. Diversi alunni sono rimasti a casa perché positivi o in quarantena senza contare gli insegnanti. La fascia più colpita è quella dai 5 agli 11 anni delle scuole primarie. Per questo Santilli invita ora più che mai a rispettare le norme anti-covid e a vaccinare i più piccoli. Io le chiedo qual è la situazione contagi all'interno delle scuole. Mi sembra una situazione insomma non troppo confortante. Non molto confortante in quanto abbiamo 21 classi complessivamente tra dad e quarantena. Abbiamo 10 classi in dad e 11 classi in quarantena. Quindi la situazione è da tenere sotto controllo. Positivi ne sono uno per ogni classe delle classi che sono in quarantena quindi diciamo che sono 10-11 bambini. Però poi ci sono i bambini in quarantena e quanti sono? I bambini in quarantena calcolando che ogni classe è comporta da 20-25 bambini diciamo che sono già 250 ragazzi che sono in quarantena e altri 200 che sono in dad. E poi è un cane che si morde alla coda perché ci sono i genitori, ci sono i familiari. E questa è la raccomandazione grande che io voglio fare. Se riuscissimo a fare sì che i ragazzini dai 5 agli 11 anni facciano il vaccino sarebbe la cosa più bella in modo da stare tranquilli tutti per le vacanze di Natale. Stiamo avendo degli incontri anche con la ASL per cercare di decidere che cosa fare questi ultimi due giorni di scuola. Vedremo il risultato fra qualche ora. Quali sono le scuole più colpite? Sono un po' tutte tranne il comprensivo 1 e il comprensivo 4 che non hanno contagi ma le altre scuole in media sono 3 o 4 classi ognuna. Stiamo parlando di primarie? Stiamo parlando di scuole primarie e infanzia tranne qualche classe delle scuole medie. È possibile che dopo le vacanze di Natale non ci sia la riapertura di queste scuole primarie se la situazione tenderà a peggiorare? No, io mi auguro che migliori la situazione se ognuno di noi rispetta quelle regole basilari che sono la mascherina, il distanziamento, il lavaggio delle mani. Altrimenti continueremo con questa situazione e non so quanto ne usciremo fuori. Un appello ai genitori? Un appello importante ai genitori che voglio fare è quello di rimanere possibilmente in famiglia. Nella regione chiaramente calcolando che sono tanti tanti ragazzi che vanno a scuola, i ragazzi in quarantena sono tantissimi, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Il comune di Pescara a che punto è sui vaccini e sui tamponi? Allora, sui vaccini stiamo a buon punto, c'è una grande partecipazione al lab che abbiamo aperto alla stazione di Portanova. Invece per i tamponi confermo che dal lunedì al venerdì si può andare tranquillamente su prenotazione allo stadio. E' preoccupato Assessore? Un po' sì.